E' lunga la scala che porta al castello, candida, merda, prezzellini. Una specie di mano muove le soppia con le gambe verso di me. Vuole farmi capire che tutti mi conoscono, che mio padre non era un tipo di pesce, pescatore si nasce. Ehi, scordate, tesoro, non vorrai in mente di diventare pazzo? Fa volte che è zucca l'uovo dovrebbe nascere prima della gallina. Ha ragione lei, in cucina l'ulto vita è fuori l'uomo. Non esistono amori infelici. E bensì, ogni amore è felice perché il cuore ha preso vita. E' incredibile. E' inutile, sorella. E' ostinato. Non piange. Sei solo cenere. Eppure coltivi uno sguardo superfluo. No. Questo no. Proprio non lo vorrei. Questa gentilezza mi dà sui nervi. Vorrei parlare con il signor direttore. Ma certo, signoria. Graus, feci a me questo brandentino. A me. Da cimio. Ma scusi, signor direttore. Parla. Ho detto che sei qui. Posso uscire, signor direttore? Girettore. E' per questo che c'è qui? Per riuscirne? Per questo, signoria. Adesso! Sve, sve, nevra, 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 nevra. Sve, sve, nevra, 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 nevra Grazie a tutti.